A mezzola la partita, secondo te questa partita sarà sbordata con la nebbia o c'è il rischio di più gioco? Speriamo che giochiamo con questa nebbia, speriamo che giochiamo. Ecco vediamo al Nino Baltagirone una piccola triade che cresce dopo Moggi, Giraudo e Pettega. Abbiamo Spoto, Mingoia e Catania. Ciao! Rimane in promozione o sale in eccellenza? Sale in tendenza! E forza Muzzomeli!